Siti industriali dismessi parte proprio dal loro censimento e la possibilità di costruire una strategia con l'obiettivo di coniugare il loro recupero e la loro valorizzazione con la possibilità di candidare progetti a valere sul piano nazionale di ripresa e resilienza per costruire delle valli idrogeno, un'opportunità che la Regione Piemonte sostiene con forza non soltanto sotto il profilo del rilancio dell'economia del territorio ma anche e soprattutto su quello dell'ambiente. La possibilità di utilizzare aree dismesse per produrre idrogeno, spiega il Presidente Alberto Cirio, è un'occasione di riconversione industriale ma anche uno dei punti cardini del nostro progetto per rendere il Piemonte una delle capitali internazionali di questo settore. La nostra idea di creazione della Valle dell'Idrogeno sta prendendo forma, commenta l'assessore Matteo Marnati. È importante candidarsi per farci sapere quali siano le aree dismesse che possono essere finanziate per diventare i primi siti produttivi dell'idrogeno e sarà una straordinaria opportunità di sviluppo dell'economia verde e dell'incidenza positiva sull'ambiente. La mappatura sarà realizzata coinvolgendo direttamente sia i soggetti pubblici che quelli privati e le informazioni raccolte anche su altre banche dati già presenti sul territorio regionale confluiranno in un'unica banca dati del riuso che verrà messa a disposizione in modo da favorire l'incontro tra offerta e domanda di localizzazione sia per investimenti che riguardano nuove realtà imprenditoriali sia per quelle che invece hanno una necessità di ampliare la sede esistente.